carissimi amici bentornati siamo nel laboratorio didattico del loyal di saronno sono in compagnia dei ragazzi di seconda del corso panificatore pasticcere quest'oggi faremo assieme a loro una ricetta che non è semplicissima come procedimento siamo qui però con attrezzature che tutti possedete a casa vedrete che sarà semplicissima la realizzazione ed è in particolare la ricetta dei croissant quindi delle classiche brioche francesi allora a giancarlo ci leggi quali sono gli ingredienti per questa ricetta abbiamo bisogno di 500 g di farina 30 g di levito di birra 80 g di zucchero 10 g di sale 50 g di uovo 250 g d'acqua e infine 250 g burro di cornetto ok detti gli ingredienti il burro di cornetto non è nient'altro che burro che però subisce una lavorazione particolare per essere reso più plastico per adatto alla lavorazione quindi dopo vedremo i diversi procedimenti così anche a casa riuscirete a replicare la ricetta ecco come prima cosa mettiamo la farina sul nostro piano di lavoro perfetto e la disponiamo a fontana ok al centro della nostra farina andiamo a inserire tutti quelli che sono gli ingredienti tranne il sale quindi mettiamo l'uovo mettiamo dentro lo zucchero il lievito e l'acqua che abbiamo precedentemente pesato ok la mettiamo tutta e iniziamo a impastare gli ingredienti ricordo che quando si impasta utilizzando il metodo di disporre la farina fontana il primo passaggio da fare è quello di miscelare i liquidi con la parte di farina che gli avvicina per cui non unire subito tutta la farina altrimenti tutto il liquido uscirebbe dal nostro banco di lavoro adesso selene può iniziare a impastare perfetto quindi iniziamo prendendo appunto la farina e rendendo un pochino più denso la parte centrale il sale in questa ricetta l'abbiamo inserito e andrà inserito dopo quindi nell'ultima fase dell'impastamento perché il sale uccide il lievito per cui i lieviti fondamentalmente sono dei microrganismi il sale uccide questi microrganismi per cui dovremo inserire nel nostro impasto durante la fase finale ok in questa fase di impastamento adesso abbiamo unito tutta la farina possiamo anche aggiungere il sale all'impasto e finire il processo di impastamento nel frattempo invece puoi preparare il burro di cornetto quindi per preparare questo burro noi prendiamo un foglio di carta da forno lo disponiamo sul tavolo gli mettiamo sopra il nostro burro che abbiamo pesato ok e gli appoggiamo sopra un altro pezzettino di carta da forno a questo punto con l'aiuto di un mattarello andremo a schiacciare il nostro burro a un'altezza di circa mezzo centimetro ok dagli perfetto ok può bastare allora questa operazione fondamentale per rendere quindi plastico il burro a questo punto il burro di forma rettangolare lo richiudiamo nella sua carta da forno e andrà fatto riposare in frigorifero attenzione rendere plastico vuol dire che il burro io posso piegarlo senza che si spezzi quindi questa operazione fondamentale poi per la lavorazione selene intanto ha finito il suo impasto perfetto e questo impasto dovrà riposare una ventina di minuti quindi facciamo una forma che sia regolare anche per quanto riguarda il pastello viene chiamato così dei nostri croissant e lo lasciamo a temperatura ambiente coperto con la pellicola per 20 30 minuti il panetto lo mettiamo in frigorifero sempre per una 20 20 30 minuti eccoci quindi trascorso il tempo di riposo del panetto di burro che abbiamo reso plastico e del pastello possiamo iniziare la nostra lavorazione iniziamo mettendo un pochino di farina sul banco di lavoro gli mettiamo il nostro impasto del pastello che ha riposato ok un pochino di farina anche sopra vedete l'impasto è abbastanza morbido e l'impasto dovrà essere esteso fondamentalmente come due volte la dimensione del panetto di burro quindi ogni tanto appoggiamo il panetto e dovrà essere praticamente due volte quindi ci siamo quasi farlo un pochino più rettangolare anche a mano come preferisci tu perfetto a questo punto inseriamo il panetto del burro e andremo a dare quelle che vengono chiamate le pieghe quindi ripeto e rifacciamo vedere l'operazione abbiamo ripreso il pastello abbiamo allargato due volte la dimensione del panetto di burro abbiamo chiuso in modo che tutto il burro rimanga all'interno del nostro impasto e adesso diamo quelle che vengono chiamate le pieghe ai nostri croissant quindi con sempre un pochino di farina sotto e un pochino di farina sopra iniziamo a stendere il nostro impasto questo lavoro servirà per far aderire il burro all'impasto del pastello dopodiché facciamo scorrere il mattarello in modo da portare l'impasto a uno spessore di circa mezzo centimetro perfetto e a questo punto andremo a dare quella che viene chiamata la piega 3 piega 3 vuol dire che devo ottenere da questo impasto tre strati di pasta quindi una volta che ho steso il mio impasto dovrò piegarlo in questo modo così e poi da quest'altra parte in modo da ottenere uno strato due strati e tre strati di pasta ok a questo punto dopo che l'abbiamo stesa 3 dovremo rischiacciare e ristendere il nostro impasto e dare nuovamente un'altra piega ecco questo passaggio questo passaggio di stendere l'impasto e piegarlo è molto simile al procedimento della pasta sfoglia ed è fondamentale per far sfogliare i nostri croissant perché cosa succede che durante la cottura l'acqua che è contenuta nel pastello evapora evaporando spingerà il nostro impasto verso l'alto finché incontra lo strato di burro acqua e burro insieme non si miscelano e quindi ottengo le diverse sfoglie in questo caso dei croissant può essere dei cannoncini o dei ventaglietti nel caso della pasta sfoglia una volta che l'abbiamo risteso che abbiamo risteso l'impasto diamo il secondo giro la seconda piega a tre per cui esattamente come prima prenderemo il nostro impasto e dovremo piegarlo in modo da ottenere tre strati a questo punto bisognerà farlo riposare nuovamente in frigorifero per far rapprendere e rassodare nuovamente il burro per cui lo avvolgiamo nella pellicola e lo rimettiamo in frigorifero una ventina di minuti ecco allora una volta che il nostro impasto dando le due pieghe a tre ha riposato lo riprendiamo e a questo punto siamo pronti per realizzare i nostri croissant sempre con un po di farina sotto e un po di farina sopra andremo a stendere nuovamente il nostro impasto durante il tempo di riposo l'impasto acquista anche elasticità quindi poi diventa più semplice la stesura dell'impasto e tenete conto che un pochino lieviterà anche anche se in frigorifero un po lievita rispetto a una pasta sfoglia tradizionale ogni tanto diamo sempre un'occhiata che ci sia la farina sotto e la farina sopra se si sta attaccando troppo così si stacca dal tavolo e andiamo a stendere il nostro impasto all'altezza sempre di circa mezzo centimetro perfetto allora una volta che l'abbiamo stesa la mettiamo in orizzontale più è regolare e meglio verranno poi i nostri croissant quindi fate attenzione quando stendete l'impasto a farlo in modo regolare prendiamo un coltello e iniziamo tagliando dei triangoli dal nostro impasto allora a questo punto ci sono diverse possibilità perché possiamo farcire i nostri croissant direttamente a crudo quindi prima che l'impasto venga cotto oppure decidere come in questo caso di fare le nostre brioche i nostri croissant e farcirali in un secondo momento quando sono già cotti con l'aiuto di un sac a poche una volta che l'abbiamo tagliata triangolo facciamo quindi la forma dei croissant e li disponiamo su una teglia per fare la forma dei croissant basterà prendere il nostro triangolo e avvolgerlo su se stesso cercando di allargarlo il più possibile senza strappare l'impasto una volta che ho pronto il croissant chiuderò le punte e lo metterò sulla nostra teglia e lo mettero è un troppo chiaro eeee Allora ricordo che tra un croissant e l'altro sarà importante dare un pochino di spazio, perché dopo chiaramente dovrà lievitare, lieviterà all'inizio sulla teglia così e poi anche durante il forno, durante la cottura aumenterà di volume. Volevo farvi vedere l'ultimo croissant in cui facciamo un saccottino, il classico saccottino al cioccolato, per cui anziché a forma di triangolo taglieremo il nostro impasto con una striscia, andremo a mettere delle gocce di cioccolato sul nostro impasto e lo chiuderemo in questo modo a saccottino. Questa è la classica brioche al cioccolato che spesso si trova nei bar. Mettiamo anche questa a lievitare sulla teglia. A questo punto i croissant così formati dovranno lievitare circa un'oretta, coperti con la pellicola e con un canovaccio, così da rimanere al caldo. Ok, trascorso anche il tempo di lievitazione, andiamo a togliere il nostro straccio e inseriamo i nostri croissant nel forno. A una temperatura di circa 190-200 gradi per circa un quarto d'ora. Trascorso il tempo di cottura, allora andiamo a sfornare le nostre brioche, i nostri croissant caldi e fragranti e così questo è come si presentano i croissant una volta che sono cotti. I croissant sono anche congelabili a crudo, quindi chiaramente uno a casa può evitare di dover cuocere necessariamente 20-30 brioche. Faccio i miei croissant, una volta che li ho formati li metto in congelatore, li tolgo la sera, li faccio lievitare tutta la notte in frigorifero e al mattino avrò i croissant lievitati pronti per essere messi nel forno e gustati a colazione. Vi ringrazio dell'attenzione, ringraziamo i ragazzi del secondo anno panificatore pasticcere che hanno realizzato questa ricetta e ci vediamo per la prossima.